Ciao a tutti gli amici, sono iniziati i lavori di demolizione e costruzione di una nuova casa in legno e paglia ad altre costruzioni. Qui vedete le marciarie di quella che era la casa qui esistente in pietra e ora l'abbiamo demolita e sul sedime della vecchia casa andremo a ricostruire una nuova casa. Questo è un vantaggio, per quale motivo? Perché andiamo ad utilizzare tutte le detrazioni fiscali del Sismabonus ed Ecobonus. Quando appunto abbiamo un livello di questo tipo, dove andiamo a costruire una nuova casa dopo aver fatto la demolizione, si può accedere alle detrazioni fiscali e perciò si può portare in detrazione le spese dei lavori di progettazione e anche di esplosione. Guardate che meraviglia!